30% e 50% al posto della merce nelle vetrine campeggiano i numeri. Sono i saldi della stagione estiva iniziati in Veneto il 17 luglio, tardi rispetto alle altre regioni, ma questo non ha prodotto perdite. Il bilancio più o meno è quello dell'anno scorso. Qualche criticità nelle aree dei confine, perché le altre regioni sono partite prima, però se oggi possiamo fare un bilancio sulle conseguenze di questo posticipo, potremmo dire che ha avuto un effetto molto molto marginale. Secondo le indagini, all'arrivo dei saldi i consumatori sanno già quello che vogliono. Il 70% dei clienti aspetta gli sconti per poter comprare il prodotto che aveva già adocchiato. I saldi servono certamente, ho visto ieri, ieri ho comprato per esempio degli abiti della Corneliana, è roba eccezionale e prezzi anche veramente validi. Lui non lo sa, ma io compro molto. Che cosa vorrebbe prendere? Ma ho preso scarpe, vestiti. Tutto, basta che sia nuovo. Ah sì sì. Ancora no, sto appunto guardando il giro se mi conviene o meno. Che cosa aveva in mente? Un po' di abbigliamento. Vedere se trovo anche le taglie, perché è difficile per me trovare le misure. Delle cosine per i bambini. Quindi conviene aspettare i saldi? Beh sì, sicuramente. Ha trovato delle occasioni? Sì sì. Sconti più o meno di quanto? Del 30%. Insomma, anche se forse i tempi delle resse nei negozi sono finiti, i saldi continuano a rappresentare un'opportunità per i commercianti, in attesa che l'economia si rimette in moto e i consumatori abbiano qualcosa in più da spendere. Per l'autunno tutto è molto legato alla ripresa economica, che secondo noi ancora non c'è, i consumi interni continuano a stagnare. Quindi difficilmente non ci aspettiamo insomma grandi cose. Dovremmo incominciare a ragionare invece con la Regione Veneto su come affrontare ed eventualmente modificare i saldi invernali, che sono invece un momento importante della vita delle aziende.